Secondo me è un lavoro ottimo, lo consiglierei a chiunque. Prima ero costretta a uscire di casa a mettere delle catenelle, se andavo fuori, adesso non metto più niente, sono sicura. Pensando che piovesse, ora sto più tranquilla, non c'è nessun problema. L'intervento è stato abbastanza veloce, in quanto l'apertura non era molta, però il danno era molto. Mi rovinava anche il pavimento e anche la pittura interna. Adesso il problema è stato risolto. E sono soddisfatta del lavoro fatto. Lo direi a tutti di fare questo lavoro.